Contrastare la microcriminalità attraverso una più capillare diffusione di sistemi di videosorveglianza a questo mira il progetto Un Occhio ad ogni attività predisposto dal consigliere provinciale di Matera Giuseppe Ferrara Vedendo i numerosi proprio furti nelle varie città anche nell'entroterra quindi Sant'Arcangelo, Potenza, la Val d'Agri, Val Basento, dappertutto e quindi è nata questa proposta, perché non fare una proposta di progetto alla regione Basilicata deve essere nata un occhio ad ogni attività Il progetto prevede appunto l'istituzione da parte della regione Basilicata di un fondo per finanziare le attività commerciali che vogliono dotarsi di telecamere Il progetto lo deve fare in realtà la regione dando un aiuto concreto a tutte le persone che hanno un'attività e non solo, può essere allargata anche alle scuole o agli stessi comuni mettendo delle telecamere magari agli incressi delle stesse città Al momento si tratta solo di una proposta che però sta già riscuotendo sempre maggiore consenso tra le varie amministrazioni comunali Il consiglio comunale di Policore è stato accolto all'unanimità poi è stato all'unanimità già votato anche dal consiglio provinciale di Matera e da oltre 15 comuni al momento